ciao a tutti bentornati su leggendo contulu sono oliviero e oggi parliamo in ridendo e trasponento di dune il film un film che è un sogno visivo da vedere proprio bello bello visivamente ma con delle problematiche molto molto come dire tecniche nella gestione dei personaggi perché la trama il bello è che fedelissima all'originale l'hanno proprio presa passo passo hanno messo le scene giuste non hanno fatto grandi cambiamenti ce n'è uno che però voglio vedere come gestiranno nel prossimo poi vi parlo bene di tutto cerco di non fare spoiler anche se c'è uno scalmanato che si è messo a fare spoiler a tutti di com'è questo film e si è persino messo a parlare di come va il secondo un certo frank herbert cioè quell'uomo dovrebbe tenere le mani a posto perché tu non puoi andarti a vedere un film senza che lui ti abbia già detto come va vi sembra possibile no e che vedevo di e se non avete letto i libri questo film potrebbe invogliarvi soltanto se sapete cosa manca però e nel caso siate però dei dubbiosi cercando su youtube sicuro qualcuno lo trovate che ha parlato dei libri è comunque entriamo un attimo nello specifico di dune chiediamo subito che come film mi è piaciuto c'ha delle cose che può salvare nel secondo perché è solo la prima metà del libro in realtà è poco avanti rispetto alla fine della prima parte e ci sta come finale e dove l'avrei messo anch'io per il fatto che in quel momento c'è anche poi un sbalzo temporale poi un pochino più avanti ma c'è uno sbalzo temporale quindi ci sta a dividere il film chiediamo era un'ottima idea perché potevi farlo un po prima un po dopo ma avrebbe perso delle cose così invece ottimo mi è piaciuto l'interrotto visivamente stupendo nel senso che proprio rimani abbagliato e stupito per quanto è magnifico grandioso il tutto soprattutto per come hanno voluto rappresentare certe scene come le astronavi gli ambienti dei dune gli ambienti degli altri mondi è esattamente come uno si immagina quei mondi ed è anche un po una spennellata di nostalgia ai vecchi libri di fantascienza anche racconti ma quelle con le copertine un po particolari avete presente no le astronavi che sono grandi sembrano quasi grandi come il pianeta quelle è bellissimo due ore e mezza che tu vedi magnificenza visiva la fotografia tutto stupendo la storia proprio passo passo in anzi hanno aggiunto qualcosina in più che cose reali che ci sono nel libro che le hanno aggiunte un attimo per farti vedere cosa succede per dare quella teatralità in più poi c'è le parti che hanno tolto appiattito cioè personaggi e relazioni fra di loro ora poso questo bicchiere che ovviamente era vuoto è solo per fare il prompt della rubrica mettiamo qui perché se non cade ecco allora partiamo dall'inizio è letto e jessica il duca e la concubina una sola scena di intimità che non riesce a far capire quant'è profonda la loro relazione perché questi due sono stati uniti dal bene jesserit bene lei è una concubina non l'ha mai sposata ma c'è un vero amore fra i due letto non si è mai sposato perché non può sposare le jessica ma ha fatto in modo che lei fosse sempre riconosciuta come la sua lady anche se a livello formale non poteva questa cosa viene fatta passare una fresetta in un momento di intimità che neanche poi è ben messa quindi non fa capire la profondità un'altra cosa per esempio è che jessica venne mandata da letto per dargli delle figlie femmine per il progetto bene jesserit cosa sono le bene jesserit donne che fanno cose nel film in questo caso invece poi viene accennato che hanno del potere politico di controllo è tutto buttato lì accennato ma non viene nemmeno spiegato che quando dicono a jessica tu dovevi generare solo femmine per il duca lei in realtà ha scelto di generare paul un maschio ma non viene specificato il risultato se non conosci il libro non sai che le bene jesserit possono scegliere il genere del bambino sembra quasi come se avessero colpolizzato una di una cosa casuale nel senso se è andata lì ci hai fatto sesso è venuto fuori un maschio è maledizione devi fare una femmina non sai stare ai patti nel mondo reale non è così che funziona in questo può non funzionare così ma se non me lo dici se io non leggo i libri non lo so per me sembra una cosa strana molte cose sono strane se non sai gli antefatti le parti dietro e in questo caso non viene fatto passare il loro amore è che è stata una scelta di jessica per il suo amato fare un maschio perché lui lo desiderava paul viene fuori come ragazzino un po che si l'ha un adolescente triste che si che ogni tanto fa dice così ma no non sono dell'umore paul quel il ragazzino che anche da piccolo sembrava quasi filosofico con pensieri profondi strane idee strani progetti che riusciva a vedere in mezzo alle cose qua è l'attore bravo il problema è come è scritto come l'hanno scritto per il film perché qua non riesce a passare che lui apparecchio già dentro di sé prima ancora di tutto perché molto del suo addestramento non è solo bene gessere ma non viene fatto passare qua ci porta al menta i menta e come anche tutte le altre grandi classi di lavori e capacità di questo universo buttati lì il menta ce ne sono due molto importanti l'unica cosa che ti fa capire che san fa qualcosa che neanche sai che sono menta questo è il bello però fa qualcosa e quando uno deve elaborare una cosa tira sugli occhi vedi il bianco degli occhi dalla risposta mi hai appena fatto la presentazione menta no mi ha fatto vedere uno che probabilmente appena avuto un attacco epilettico davanti alla telecamera no anche perché poi ci sono tutti i piani nel video in cui parlo di dune spiego cosa sono i menta e tutto però proprio è una questione del presentamelo perché è importante soprattutto perché è una cosa che riguarda molto paul ma no non lo facciamo così no altro il barone arconne il grande barone arconne è un cattivo magistrale stupendo che riesce a fare dei piani elaboratissimi grazie anche al suo menta che nel libro si vede quanto è sporco perverso mentalmente fisicamente nel modo di fare nel modo di fare piani qui è cattivo perché ha la colorazione nera tutta attorno è grasso ed è contro gli atletes poche scene in cui parla e quando parla neanche dice il suo grande piano il piano che va oltre quello dell'imperatore è fantastico no in più gli diamo un solo nipote cosa sì un solo nipote dovrebbe averne due perché uno serve per un primo passaggio del piano il secondo è quello su cui punta tutto il secondo manco c'è me lo faranno poppare fuori dal secondo film possibile però quel punto è ma chi è questo avevo bautista prima e adesso viene fuori un altro chi è non si sa perché non ti fanno le spiegazioni dune è basato sui ragionamenti i pensieri le spiegazioni mentali qui non ne abbiamo lynch lo fece con la voce esterna la voce pensiero qua no abbiamo le faccette faccette che funzionano che purtroppo non ti portano a capire la profondità della situazione quindi ti ritrovi in situazioni che succedono una dietro l'altra perfettamente come nel libro ma se non hai letto il libro non capisci che cavolo sta succedendo o perché succede certi casi diventa quasi ridicolo per esempio il medico non viene accennato al fatto che il barone è riuscito a fare qualcosa di impossibile con il medico invece sembra solo che lo minaccia e basta ma ha fatto qualcosa che era ritenuto impossibile anche dall'imperatore è una cosa importante è una cosa che ti fa capire quanto è furbo il barone qua no qua no è solo crudele va bene il problema è che tutto contornato con una tale magnificenza che tu continui a vedere quelle scene stupende di cose grandiose fantastiche meravigliose pianeti alieni colossali costruzioni colossali astronavi ancora più colossali pirotecnico azione luce ombra tutto c'è quella profondità che io ho trovato nel libro è un problema sì e no perché chiediamo trasporre un libro è complicato lo so benissimo il fatto che non abbiano deviato troppo dalla storia o comunque tecnicamente non hanno deviato dipende come finirà la duologia questi due film ma che non deve andare alla storia è incommiabile nessuno lo fa in genere fanno i cambiamenti per alleggerire o lo potevo fare meglio o per il pubblico qui no qua fanno la trama pari pari com'è ed è un bene eh chiediamo il problema è che facendolo con dune deve ricordarti anche che c'è un nucleo di dune che è l'universo perché le regole dell'universo servono per capire la storia servono per portare avanti la storia perché fare il primo film cioè scusate il primo libro ok ma quel già quello ha una magnitudo enorme per tutto il resto dell'universo anche solo per regole e se vuoi fare anche quelli dopo tu non puoi tralasciare nulla devi dire tutto proprio per far capire dove arriva paul dove si arriva dopo quali sono gli obiettivi cosa le moce cosa scateni che cosa muovi mi è piaciuto che hanno voluto fare tutta la parte mistica di paul ma non l'hanno fatta capire bene secondo me perché non si capisce la profondità hanno ancora quello dopo anzi chiediamo una cosa il primo la prima metà il primo film ha poco di mistico ok anche le questioni benegesserit su la superstizione tutto è fatto poco ci sta anche nel libro è poco nella seconda metà si va a fare delle cose che sono molto strane mistiche quasi religiose che t'avevano preparato nella prima metà se tu arrivi alla seconda senza quella preparazione succedono cose tu sei perché che succede che cosa boh allora io da fan proprio da 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 vado a cercare il capello le capacità di paul secondo me in quel momento come l'hanno fatto nel film è perfetto soprattutto le voci per chi sa sa le voci tante voci è perfetto il problema è che non è servito bene non te lo spiegano bene che cosa sta succedendo non è solo la spezia è molto di più è tutto accennato come se si pensasse un grande progetto e va benissimo il problema che questo progetto si basa su un libro che o hai letto e sai dove vuole andare a parare o non l'hai letto e non sai se vuoi andare a vedere il secondo perché per quanto può essere bello visivamente se la trama non riesci proprio a capire bene oppure ti sembra che vuota è perché poi devi andarti a leggere il libro non dovrebbe funzionare così nel senso tecnicamente è vedi il film vedi il film e poi diceva bello vado a leggere il libro sì ma il sentirti obbligato a leggerlo perché tutti dicono ah no ma hai visto quello ma quello è l'altro così è perché ti sei sentito escluso non hai capito oppure uno butta merda su un film non lo sto facendo perché a me è piaciuto è questo il peggio e poi dici ma io non ho capito a me è piaciuto sembri troppo critico e no il problema è che il libro è bello può avere le sue criticità anche il libro però se è bello è complesso è complicato è intricato pieno di piani cose così uno va a vedere il film vuole vedere la soddisfazione visiva ma anche quelle cose un po' contorte un po' perverse tutti quei piani tutte quelle cose quelle le vuoi vedere e qui non le vedi e quindi che si fa e ti leggi il libro quindi il mio consiglio è leggete il libro ma vedete il film questo film anche quello di lince ma questo vedetelo perché è stupendo però il problema qual è due ore e mezza di bellezza visiva ci sta ma due ore e mezza di trama che è una parte dietro l'altra con momenti in cui si prendono molto le pause i silenzi le visioni ci sta ci sta però può essere pesante e tutte cose che vanno a incidere su mille mi vado a vedere il secondo ma faremo altri film ma è questo il punto è bello ma è rischioso soprattutto per loro perché è un progetto stupendo tutti quanti noi vorremmo vedere tutta la serie di dune trasposta però devi farlo in una maniera tale per cui il prodotto finale è fruibile da chi ha letto chi non ha letto e non ci sono questioni che poi inizi a dire cose che sembra che tu autore ti inventi le cose o anzi peggio sembra che Herbert si sia inventato durante gli altri libri le cose perché tu le fai uscire all'ultimo e quindi diciamo che è tutta la parte politica economica un po' buttata lì così a caso tutti i fegatelli quelli belli di dune niente non c'è si cito molto Boris che ci volete fare vedete anche Boris oltre a dune e leggete dune ma non c'è Boris da leggere Boris e dune mi raccomando comunque il fatto è che il film è bellissimo mi verrebbe da consigliarlo ma cioè mi viene anche da dire il guarda che è un film che potresti trovare pesante perché viene da un libro che può essere considerato pesante ma come se non bastasse l'hanno appesantito da silenzi e discorsi che hanno un senso se sai tu perché non te lo spiegheranno loro ed è tosta credo che il voto finale vedetelo è bello visivamente è stupendo la trama regge anche se non avete letto il libro il problema è leggete il libro ne vale la pena perché vi dà tutto un universo più grande più enorme è una space opera cioè dovete leggerla per favore viratevi è bella bella è bella il primo leggete il primo il primo fidati leggi il primo fatti la saga tutta tua leggi il primo fidati e con questo è tutto grazie mille per aver visto il video spero vi sia piaciuto e ci vediamo per la prossima recensione ciao tu lo sai che adesso si piange e si ride con tutte le trasposizioni che arrivano vero perché abbiamo la ruota del tempo e lì si ride abbiamo i signori anelli e lì si piange e poi la fondazione e lì non lo so grazie mille